Il provvedimento per l'adozione di criteri sull'attuazione dei contratti di sviluppo a valenza regionale finalizzati a realizzare nuove attività produttive, ampliare quelle esistenti e diversificarne o riconvertirne la produzione di beni o servizi, all'attenzione della terza commissione consigliare permanente. Auditi l'assessore alle attività produttive Pittella e il dirigente Marsico, il quale ha chiarito che il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato le best practices per il rafforzamento del sistema produttivo regionale e ha fatto notare che il contributo concedibile non potrà superare i 4 milioni di euro per l'industria, il turismo e i 2 milioni di euro per il commercio. La Giunta ha continuato, approverà gli avvisi per individuare i programmi da finanziare. Il presidente della commissione, Romaniello, ha auspicato un maggiore equilibrio tra la programmazione dei processi di sviluppo e la tutela ambientale, mentre il consigliere Navazio ha annunciato un emendamento teso ad eliminare l'articolo che istituisce il Comitato Consultivo per l'attuazione dei programmi. A tal proposito, Pittella ha affermato invece che il Comitato potrebbe svolgere un'importante funzione di sostegno.